Ciao a tutti, sono sempre Greg e questo è il mio canale in genere horror. Su piattaforma streaming Prime Video potete recuperare In Fabric, un film che è uscito, è del 2018 però in Italia è uscito più tardi, però già da mesi lo potete trovare su un Prime Video, horror britannico diretto da Peter Strickland, che è un po' la storia, se vogliamo sintetizzarla al massimo, di un vestito killer, anche se detta così sembrerebbe una trama stupida, ma stupida non è. Abbiamo una donna che si reca tirata dai saldi ad acquistare un vestito perché è separata, sta conoscendo altre persone, vuole andare ad un appuntamento elegante e trova in questo negozio dove ci sono dei saldi molto interessanti, trova un vestito rosso. È però modello unico, una taglia unica e sembrerebbe non andare bene alla donna, però stranamente questo vestito le va, le calza a pennello. È convinta anche dalla grande abilità della commessa che riesce a convincere, ad acquistare quello che è uno stile, un tipo di vestito che non si addice in teoria ai gusti della donna, sì che comunque si fa convincere e quindi cominceranno tutte delle conseguenze molto strane e pericolose perché appunto indossa questo vestito che da qualcosa è imponcessato. In realtà non è quella la cosa importante, ma tutto quello che poi il film vuole dire. Intanto la narrazione, il film è molto interessante perché al di là di quello che può essere una banale scelta di un oggetto assassino e già un vestito, l'avevamo visto e ne avevo fatto anche un video, per un film del 2022 che è Slacks, i jeans che uccidono sostanzialmente, i jeans assassini, che non aveva colto nel segno perché avrebbe voluto parlare di molto altro, però in realtà l'ha messa in scena un po' banalizzata nel corso della storia, nel corso dell'evoluzione poi del film e poi qualche pecca, quella non era riuscito a cogliere nel segno, però recuperate il film Slacks se non l'avete visto e recuperate poi il mio video così capirete che cosa è che non mi aveva convinto di quel tentativo. Cosa che invece è riuscita ampiamente con In Fabric, che riesce ad affrontare non soltanto una storia tipicamente horror come quella che può essere un oggetto, in questo caso un vestito che procura danni agli esseri umani, ma riesce ad essere profondo, riesce ad essere stilisticamente intanto molto interessante. L'amore per gli anni 70, i colori, le situazioni psicadeliche, le musiche, le situazioni particolari tipiche di quel periodo si vedono che sono amate dal regista che ne mette in scena un film che è fuori dal tempo, può essere visto in qualsiasi momento ed è un film che non ha nella componente temporale la sua importanza, ma è in quello che dice, in quello che vuole mostrare stilisticamente con questi colori, con questi rimandi e l'amore a un certo tipo di cinema, ai gialli italiani, a Mario Bava di Se Donne per l'Assassino, al Dario Argento degli anni 70, ma c'è tanto di più, c'è addirittura anche Romero. Giorgio Romero e i suoi zombie che vanno al centro commerciale nell'alba dei morti di venti e vogliono entrare, vogliono sfondare le vetrate. Come vedremo anche i clienti di questo negozio, che vogliono sfondare quasi le vetrate, aspettano l'apertura perché vogliono comprare un qualcosa di cui magari non hanno bisogno, ma ci sono i saldi, devono arrivare per primi e devono assolutamente comprarlo. Anche la nostra protagonista si fa un po' convincere, sia dei saldi che della commessa stessa. Però la chiave di lettura in questo senso è molto importante, molto profonda, una critica sociale a quello che è il consumismo e la corsa, l'acquisto sfrenato senza una motivazione se non quella dei saldi, una pubblicità che in tv vediamo anche lì con dei colori sparaflesciati, con una pubblicità ad altri tempi che richiama addirittura quegli spot pubblicitari delle maschere di Halloween, il capitolo 3 di Halloween, quello che si staccava dalla storia di Michael Myers, ma parlava invece di queste maschere letali per chi le indossava. Richiamo un po' questi spot pubblicitari. Gli inframezzi con dei montaggi molto ben assistati, quasi da creare uno jump scare di queste mani, di manichini che entrano, adesso spiegarlo a chi non ha visto il film è molto difficile, però ci sono degli inframezzi, delle situazioni, grazie ad un buon montaggio, un bel montaggio, che rendono il film, danno il film quei guizzi grotteschi, sopra le righe, che sembrano non funzionali alla narrazione, ma che in realtà stilisticamente lo arricchiscono notevolmente. E poi scene erotiche molto spinte, anche se particolari, e non le cito perché appunto dovete vederle, e questo negozio con queste commesse molto strane che riescono a convincere questi poveri ignari, ma poveri ignari mica tanto perché se la vanno a cercare consumatori, che sono schiavi di questo tipo di consumo e di cui tutto il proprietario del negozio sa, conosce a fondo e vuole conoscere di queste persone. Quindi un mistero che si infittisce sempre di più per una narrazione che poi a metà film avrà una svolta narrativa decisamente bizzarra, se vogliamo, o comunque a sorpresa, darà un guizzo successivo ulteriore al film e ne darà un interesse ancora superiore per dire sempre anche qualcosa di più, sia a livello appunto di storia, di narrazione, ma anche a livello poi di significato stesso, sociale, come l'ho appena accennato per quanto riguarda il consumismo. Diciamo tutto questo è quello che si può dire per quanto riguarda una parte, non spoiler, perché poi il film va visto, bisogna essere veramente avvolti da queste musiche, da questi colori, da queste situazioni, da questi montaggi folli e questi personaggi grotteschi. Le situazioni che vengono tirate fuori non sono solamente quelle del consumismo, ma c'è anche una, diciamo, una velata, e mica tanto polemica, nei confronti anche dell'abuso di potere da parte dei datori di lavoro, comunque di chi sta sopra, una scala gerarchica che viene veramente messa e criticata asparamente da una situazione in cui la nostra protagonista, bravissima nel lavoro, che viene addirittura elogiata dai suoi superiori, viene però rimbrottata, viene diciamo pizzicata in quelle che possono essere delle situazioni banalissime come quelle dell'andare in bagno e perdere tempo e sottrarre tempo al lavoro, che dovrebbe essere una cosa veramente banale, anzi riconosciuta nei diritti di ogni lavoratore, ma qui in realtà in maniera grottesca, ma molto polemica, viene sottolineata. Non sarà l'unica, c'è anche un altro personaggio che verrà ripreso sul posto di lavoro, ma appunto è conseguenza di uno sviluppo narrativo che qui ora non voglio assolutamente sviluppare perché diventerebbe comunque da parte spoiler troppo pesante. Quindi tutti questi elementi, se sono riusciti a darveli per incuriosirvi, per incuriosire chi il film non l'ha ancora visto, sono gli elementi che vengono sviluppati, molto meglio di quello che sto dicendo io a parole, in un film che secondo me è dove la regia, il montaggio, la sceneggiatura funzionano una grande insieme ai personaggi, e lo sviluppo dei personaggi bizzarri, grotteschi, fuori dalle righe, fino a un finale veramente molto bello. Ora, se vogliamo proseguire e volete proseguire con il video, passo una parte spoiler per analizzare un paio di elementi che mi sono piaciuti, quindi se non avete visto il film andate a vederlo, tornate a recuperare il video e vedetevi anche l'ultima parte che adesso andrò ad analizzare, dove appunto ci sono altre due o tre cosette che mi sono veramente piaciute ma diventano spoiler. Quindi se siete arrivati fino qui a questa parte del video, parliamo di quello che è innanzitutto il finale, questa commessa che non si capisce se è un manichino animato, una persona particolarmente strana, un androide, non interessa sapere cos'è, va nei sotterranei e piano piano va sempre più sotto e vediamo in questi sotterranei, nei vari piani, una macchina da cucire e chi sta utilizzando questa macchina da cucire è la protagonista della prima parte del film e il protagonista della seconda parte del film, dove c'è appunto un chiaro cambio narrativo e un colpo di scena dove fatta fuori la prima protagonista si passa al secondo che in maniera molto bizzarra utilizzerà anche lui il vestito perché verrà utilizzato per un addio al celibato e saranno i due protagonisti che vediamo alla fine del film quasi in un girone dantesco e che sono costretti a continuamente a cucire questo vestito che nella realtà effettivamente non si strappa mai o meglio una volta strappato si riforma, si ripara da solo quindi non si danneggia mai un vestito che continua a esistere nonostante i personaggi poi vengono fatti fuori una volta noi ne vediamo due ma di fatto tutti quelli che indossano il vestito vengono sostanzialmente fatti fuori da questo e una macchina da cucire sottostante che è ancora vuota per il prossimo personaggio un bellissimo finale questo qui molto suggestivo per un film che appunto riesce a coinvolgere tantissimo riesce a dare grazie anche a questo stile a questo modo di interrompere un certo tipo di generazione e far fuori un protagonista principale che non ci si aspetta veramente è vero che il protagonista assoluto è il vestito ma è vero anche che la nostra protagonista la nostra donna che ha comprato inizialmente l'abito sembrava pari merito esserlo però anche questa è una svolta molto interessante per un film che va dritto per quello che vuole raccontare sia a livello sociale ma anche da un punto di vista narrativo riesce ad essere diciamo sconvolgente sopra le righe e comunque fuori dagli schemi tanto da diventare interessante sia non solo per la forma o meglio non solo per la sostanza dell'argomento che viene trattato ma anche per la forma come dicevo perché è veramente accattivante vedere l'utilizzo di colori musiche e situazioni psichedeliche la parte spoiler non era tanto per spiegare quello che è un'argomentazione che è molto evidente sul finale del film ma per dire che questo elemento del girone dantesco questa situazione onirica nella fine del film è onirica ma molto spaventosa nel senso che questo vestito impossessato da un chissà quale forza riesce a rendere succubi questi esseri umani che non sono solo succubi di quello che è il saldo i saldi e il consumismo ma addirittura anche dell'oggetto stesso cioè talmente oppressi talmente conquistati e dominati dai salti e dagli acquisti che l'oggetto stesso li conquista e li domina fino a renderli schiavi e a farli cucire all'infinito questo vestito che all'infinito andrà avanti senza avere mai senza consumarsi mai che sarà poi deleterio per i prossimi che lo indosseranno quindi anche questo aspetto secondo me è molto molto riuscito del film potrebbero esserci anche dei difetti ma in realtà a me il film è piaciuto molto quindi ho voluto esaltare tutte quelle che sono le parti le componenti che secondo me lo rendono molto molto interessante è un film riuscito non se ne è parlato tantissimo ma secondo me da quello che ho visto la critica ne è riuscita ne è uscita soddisfatta e ha trovato un film ben riuscito io per quel poco che posso dire nel mio piccolo lo trovo veramente un film ben fatto e che andrebbe di diritto nella top dei migliori film dell'anno ma che appunto non ho saputo collocare in un anno di uscita perché essendo del 2018 è uscito poi distribuito non si sa bene se in 2022 o prima ho preferito recuperarlo adesso e comunque proporvelo come video perché secondo me è molto interessante quindi se siete arrivati fino qui il film l'avete visto l'ho consigliato comunque nella prima parte del video recuperatelo se non ci avete visto questi dettagli perché non è quel film da vedere mangiando le patatine e distraendosi con gli amici a parlare ma è un film che coinvolge dal primo all'ultimo minuto magari si perde un attimo in situazioni che si ripropongono nella seconda parte del film ma era effettivamente difficile riproporlo attenzione il secondo personaggio anche lui ha le stesse prerogative le stesse situazioni è un riparatore di lavatrici fatalità come nella prima parte la lavatrice si era rotta aveva anche ferito rotta a causa del vestito si aveva ferito la nostra protagonista nel secondo addirittura quasi per un quasi uno sberleffo quello che è stato il destino della prima donna della prima protagonista lui è un tecnico di lavatrici che si aggiusta la lavatrice da solo e verrà rimproverato anche qui anche qui una polemica quello che è l'ambito lavorativo dove un lavoratore viene rimproverato anche se bravo quindi secondo me tanti elementi buona visione se volete rivedere il film volentieri tornate a rivedere il video commentate e alla prossima la prossima e alla prossima